Tutti contro tutti Non potevo scelare nel mio migliore dei modi E ragazzi faccio questo video più che altro per chiedervi ulteriori sfide su Call of Duty Ghost Scrivetemelo giù nei commenti Io ovviamente le tengo tutte in considerazione, l'ho saputo Già da quelle vecchie le ho sempre tenute in considerazione Ho fatto c'è in so, ho fatto fucile a pompa, ho fatto lo sniper Quindi ragazzi fatemele proponete, me le tante, io le proverò tutte E ovviamente cercando di accontentare tutte quelle più difficili Quelle più, diciamo, che riesco a fare meglio E niente ragazzi, poi vi volevo parlare un attimo del pacchetto nuovo di LC Di mappe di Call of Duty Ghost che è Onslau, come cazzo si chiama ragazzi Ovviamente mi sono scritto in un quadernino qualcosa su questo DLC nuovo Che ovviamente uscirà il 28 gennaio per Xbox One, Xbox 360 E poi non so se uscirà anche per PC Comunque sia ragazzi, queste mappe da quello che ho capito sono di piccole dimensioni Quindi per me va più che altro bene Questa cosa mi riporta più che altro ai vecchi Call of Duty Quindi sono abbastanza contento Ovviamente la classica cosa che danno in regalo è un fucile Che questa volta si chiama Mavery Che è una specie di fucile ibrido che passa dall'assalto A essere un fucile di precisione Quindi ragazzi, non posso fare commenti su questo Ma pensate un po', lo proveremo direttamente Quando prenderò il pacchetto e vedremo un attimo Se è veramente un fucile ottimo Come era prima, ragazzi, adesso non mi ricordo Il Pacere Le mappe ragazzi, ovviamente sono 4 mappe multiplayer Più un'estinzione ragazzi Fog E quella mappa che ad esempio Da quello che ho capito è un tributo ai classici film horror Diciamo che ci troviamo in un paesaggio dove ci sono strutture abbandonate E completando le direttive di missione Riusciremo ovviamente a impersonare una delle leggende del film horror Dei classici film horror Che è Michael Myers Quindi ragazzi, questa mappa è forse una delle più interessanti Che hanno presentato nel pacchetto Forse ne vale la pena provarla Forse no, non lo sappiamo ragazzi Comunque sia, io lo proverò per voi Vi farò vedere come funziona Se riesco a prendere le sembianze di quello A prendere comunque sia A completare la direttiva E va bene, ve lo farò vedere Seconda ragazzi, Bayview La seconda è ovviamente un combattimento più ravvicinato Da quello che ho capito Nel lungomare di una costa californiana Quindi diciamo che Ho visto che possono essere chiamati I colpi datiglia dalle navi Che sono diciamo stanziate nel mare Da quello che ho capito Ci sono quindi lungo la costa queste cazzo di navi E sarebbe questo il punto Poi non lo so ragazzi Una mappa piccola per me va più che bene Come ho sempre detto Le mappe più piccole sono più divertenti Perché è più frenetico E incontriamo gli avversari più velocemente L'altra mappa ragazzi Containment Che da quello che ho capito Ci troviamo in un villaggio messicano Devastato dalla guerra E si dovrebbe trovare Nel letto di un fiume in secca Se non ricordo male ragazzi Quindi ovviamente L'azione si incentra in questo ponte Che è del fiume Che attraversa il fiume C'è un camion Con del materiale radioattivo E non so se possiamo farlo esplodere A quello che ho capito Mi sa che lo possiamo far esplodere Per cambiare Per disurgere il ponte Comunque sia per sbarrare l'accesso Se non mi ricordo bene Sarà sempre ragazzi Più chiaro Quando potremo toccare le comande Queste mappe E vederle noi Ve le presenterò sicuramente ragazzi Subito nel canale Perché a giorni dovrei prendermi il season pass Inition ragazzi L'altra mappa Ovviamente non neanche mi dilungo Su queste cose Per chi è appassionato Della saga di Call of Duty Si ricorderà sicuramente Di Inition Perché è uguale a Scrapyard Anzi è presa proprio da Scrapyard Modificata e migliorata Da quello che so Scrapyard è una mappa di Mv2 ragazzi Quindi per chi Avesse iniziato la serie Su Mv2 Si ricorderà perfettamente Scrapyard E quindi Sono le 6 mappe ragazzi Quindi non ci resta che aspettare Questo pacchetto multigiocatore Spero sia Un buon pacchetto Anche se Sinceramente Da un po' sta deludendo Forse L'unica cosa che teneva in piedi Ancora La Activision Era La modalità zombie Di Call of Duty Che a questo punto è stata sostituita Dall'Infinity Con l'estinzione Ragazzi E quindi arriviamo Arriviamo anzi Al punto forte Di questa presentazione Anzi di questa presentazione Di questa analisi Che sarebbe L'Extinction Nightfall ragazzi Ambientato in Alaska In un centro di ricerca Dove si indagava Sulla presunta Minaccia aliena ragazzi Quindi ripartiamo Dalle origini di Extinction Che dovrebbe essere Quindi ragazzi Il primo passo Dei quattro Quindi primo Secondo Terzo Quarto I quattro pacchetti Ragazzi Comprenderanno La storia di Extinction Poi ovviamente Non sappiamo Se verrà Focalizzata Questa storia Anche nel prossimo Ghost Sicuramente uscirà Un Ghost 2 Ragazzi Chi ha giocato La campagna Sa come finisce Sa che ci sarà Un seguito E niente ragazzi Questo quindi Ci dovrebbe essere Anche un mostro finale L'avevo l'ho capito Ho visto il mostro Che è una specie Di ragno gigante Ovviamente Sempre un Uno di quei cazzo Di alieni Quindi ragazzi Questo è il pacchetto Nuovo Onsload E io penso Ragazzi Che non dovrebbe essere Chissà che cosa Forse ragazzi La cosa che mi interessa Di più È la mappa Nuova Fog Che è quella Dove diventiamo Michael Myers Con le direttive Di missione Completandole L'altra cosa Mi potrebbe interessare È che le mappe Sono piccole E poi sono curiosissimo Di vedere Il fucile Ibrido Che sarebbe D'assalto E di precisione Maveri Ovviamente Non mi interessa Granché La modalità Estinzione Però La proverò Perché voglio capire Se sarà una storia Valida Da mettere Al fianco Di zombie Anche se Ovviamente Ragazzi Fare paragoni O comunque Pensare Che l'estinzione Possa recuperare Una modalità Zombie Che è cresciuta In tre anni Tantissimo Dal World at War Da Black Ops 1 E poi Black Ops 2 Anzi Black Ops 1 E Black Ops 2 Quando incominciate A avere un senso La storia A avere un continuo Un proseguo Attraverso Nicolai Dottor Richtofen Eccetera Quindi ragazzi Ci vorrà un bel po' Prima che Estinzione Possa raggiungere Un tale successo Come ha avuto Zombie E quindi ragazzi Da cura notte è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Iscrivetevi Commentate Mettete mi piace Se ovviamente Avete portato il mio video Scusatemi ancora Per questa Piccola pausa Che mi sono preso Ma non stavo benissimo Ragazzi Non ero in formissima Tornerò Più in forma che mai Con le sfide Di Call of Duty Con Bat E Phil 4 FIFA ragazzi Non chiedetemi FIFA 14 Perché non ce l'ho Per Xbox One Sapete che mi fa Sclerare tantissimo Quel gioco Proprio mi fa Innervosire E rischio di rompere Veramente qualcosa Non vorrei rompere Il joystick Non vorrei fare cazzate Quindi chiedetemi Qualsiasi altro gioco Lo sapete C'ho Non lo so Crysis Forza 5 Dead Rising 3 Rai Sono From Adesso non ce l'ho Proprio appresso Però Payday 2 Altri giochi ragazzi GTA 5 Ce li ho tutti Quindi chiedetemelo Oppure Noi ci rivediamo Alla prossima Quindi Bella raga